Bentornati ad un nuovo episodio di Clash Royale Di ignoranza Passione Qui è Tony con voi e Riune Ecco come vedete il profilo Guardate Profilo giocatore Il giocatore 976 vittorie Quasi mille Faremo lo speciale Guarda la miseria la leggendaria La scendita Già l'avevamo fatta vedere Comunque facciamo finta che non l'abbiamo fatta vedere No aspettiamo gli argenti Quelli sono più buoni Che hai capito che è più buono Vediamo un po' cosa ci serve Tre carte Ma perché ti va più ci lento? Io non lo capisco Non lo capisco ma niente Sto cellulare è così Dai tre carte Ma la carta è più inutile Oh gli sgherri Interessante Al 9 ce l'hai Non ti vergogno Non ti avvergugno E dai Arcieri Che palle Compa E si Andiamo a sbloccare questo Oh Però Oh Oh Le Stato non si vede Che fa cuci col dito Tranquillo Tranquillo Vati vati È la suspensa È la suspensa Spendere le leggende Sì Questo è il secondo turnio che faccio Il primo avevo fatto sette vittorie Sette vittorie Oh Due quadri Porca puttana Quello cazzo di oro Ebbè il moschettiere Vabbè fai quello sopra Io C'è il cazzo Amici guardate la grande novità Che tra un po' arriverà il video Prof in arena leggendaria E voi vi direte Ok questo è già Noi già ci siamo stupiti Però Io vi faccio vedere che lui ha trovato questo Signori Ha trovato il Boscarolo Il Boscarolo E ora Il clan Ha due membri Guardate qua 3.400 E mori carina E ora in clan C'è 4 punti qua Come cazzo qua E ora in clan abbiamo due All'arena leggendaria Oh Ho superato Emiliano Amici Io non ci riesco a salire Sto in record 2.229 2.000 Inutile che ci clicchi Infatti non ci posso cliccare Guarda loco Questo è il mio mazzo Voglio Che l'ho consigliato io Voglio Tra poco Tra poco Arriverà il mago Al 2 E non dico altro Tra poco Tra poco Tra 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 qualche secondo Non perdetevi questo episodio Consigliatemi dei mazzi Con la scintilla Consigliatemi dei mazzi Con la scintilla E il tronco Se volete Il tronco Ma Se vogliamo E' molto difficile Ah è molto difficile E' molto molto difficile Però sposta tutte le truppe Quindi Con lo specchio Lo devi usare Tu abbi Abbi fede Potenza lo specchio E' miglior fede E' miglior fede E' potenza lo specchio Vabbè amici Ci stiamo dilungando troppo Dicetemi qual è il migliore Tra questo Ma non c'è l'offerta al negozio Ma sto Sto proponendo Che maledetto Se vi piace Il numero 1 Il numero 2 O il numero 3 Le premi però Eh ho premuto ma Le guardie Signori State attenti State attenti E vi salutiamo Forse vi salutiamo Così No Saper arrivare il mago a 2 Non per Non cambiate canale Iai ai ai Uuuu Ma amici Eccolo La leggendaria Il lumberjack Questo è il profilio Del prof Come potete vedere Ha avuto Una grande botta di culo Da aver trovato Il paule Leggendario Bene Andiamo quindi A spacchettare I vari profili Oh Quindi abbiamo loro Minion Ord Goblins Royal Gint E Tombstone Bene Andiamo a gemmare Qui Gold Krinkt Minion Ord Royal Gint E Fornace Bene Carte del Cazzo Ma Qui la cosa Si va proprio Di merda Comunque Il lumberjack Mamma mia Spettacolo Ragazzi Veramente Spettacolo E Va bene Adesso Passiamo A un altro profilo Signori Siamo Siamo full Anche qua Genevieve King Ho già fatto un po' Di balser Di balser Dentro e fuori Vediamo un po' Questo è il balser Del monstero Di Genevieve Di Genevieve Oh Line 5 Su 40 Oh 25.000 Siamo arrivati Complimenti Allora Mi sbaglio sempre Che devo aprire sempre Quelle sotto Prima quelle sotto Allora Andiamo a spacchettare Prima questi E poi passeremo A quelli di sopra Perché fanno Queste dell'argento Fanno veramente Schifo Non so Perché il gioco Mi dia queste Chest Che sfiga oggi Oh wizard Ci dice spirit Che apprezzo Dovevo fare il brodo Cannon Bomber E C'è Rixir Uno ricevito da Tiffany Ringraziamo Tiffany In diretta Waffle Ringraziamo pure Waffle Che Questo so che mi segue Quindi Ciao Waffle Se mi stai seguendo Like Vediamo un po' Il bomberone Oh Qua c'ho questo Che non Oh 6 giorni Ragazzi Ci siamo quasi Il drago Is here Mango qua C'ho niente Va bene Sblocchiamo La crown Amici Abbiamo sbloccato La crown Chest Quest'oggi c'è un ospite Speciale Vuole aprire lei Ospite Aspetta Aspetta però Devi aprire questo D'argento qua Lo vedi Brava Vai 3 carte Ti prego No 2 cal Gold Zap E Skeletons Apriamo questo Qua sopra Quando si Amici Riune Si è fatto Come vedete Quasi Quasi Amici Riune Scemo Lasciamo perdere Allora Crown Chess Andiamo ad aprire la Crown Chess Gold Che ci riserva Gems Che cazzo Hai aperto da solo Spare Goblin Zapp Vai 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 La leggendaria Dave Master Oh Set of Grider Buoni Buoni come il pane Sono buoni come E questo è il mio mazzo Questo è il mazzo Sì infatti lo devo togliere Vaffanculo Questo è il mazzo che uso io Sai zitto Vaffanculo Però ci sta La zappallotto Che non mi convince tanto Questo è il mazzo Che uso anche all'altro profilo Però là c'è il mazzo di ghiaccio Al posto di questi Pifelli verdi qua Stipirla Invece adesso Non ce l'ho Amici passiamo Al mio principale Con una novitane Incredibile Veramente Una novitane Con l'offerta speciale Vai sopra Vai sopra I peli degli occhi Vi farà drizzare Signori Siamo passati a questo Profilo principale 50 minuti Alla corona Ma però E c'è anche di uno Però io ve lo metterò Il prima possibile Allora Eh oro Ah lo dovevo aprire al contrario Infatti c'ho cacalata Uno stregone ricevuto Da fanfera Attenzione Vabbè Io gli ho donato i barbari Ci sta Gli ho donato i barbari Puoi donare solo 6 carte Eh lo sapevo Lo sapevo Oro Eccoli qua i barbari Puntuali Che ce l'ha detto Puntuali come le tasse E ce l'ha detto Ce l'ha detto La sorveglianza Tesla Giant Quanto mi esce il Giant Io sono contentissimo Amici ve l'avevo promesso Fallo tu No no Voglio fare io Voglio fare io Signori 65 Ole Il primo e unico potenziamento Alla 2 Che faremo Nella mia 60 azione di vita Quanto è 7 e 31 Di punti feriti Con la palla di fuoco Già non si schiatta 7 e 31 Cioè Fammi vedere la palla di fuoco 7 e 3 7 e 3 Oh non si schiatta Allora ci non cambiano Fammi vedere questo qua 7 e 3 Ora ho capito Quindi Quindi praticamente Mi sa solo col razzo Fammi vedere Fammi vedere la fulmina 7 e 86 Si Me la prendo al culo Col razzo Con questi Con questi Scusate Ho appena finito a mangiare Eee Danno 1100 A po' penso che non me lo useranno mai 1200 punti ferita Quindi mi sa Ah col razzo Al 7 Mi eliminano la scintilla Avrei preferito trovare una scintilla Piuttosto Mi sa che ho fatto una pirlata Perché Se mo domani mi ci sta L'offerta qua da 10.000 Non me la posso accattare Vabbò Questo si doveva fare Signori Sblocchiamo la crown Aspè C'è un potenziamento Visto che stiamo A sprecare i soldi Finiamoli a sprecare Come si deve Mi sa che io già lo so Che cosa devo potenziare Eeeh Che f***i ricacciato Eccolo questo qua Super sgherro Eeeh Solo 13 Vabbò Signori Io avevo promesso Il barrile della corona Lo so Non ci sono riuscito Perché mentre aspettavo Che si caricava il barrile della corona Ho fatto qualche partita di prova Voi mi direte Ma sei una Sei un pirla Allora se non hai fatto la corona Eh amici Io vi porto qualcosa di meglio Vi porto qualcosa di esclusivo Che ho solo io In Italia No non è vero Ora mi smerderete Tutti quando in diretta Perché Ho detto Una Minchiata Amici preparatevi Perché questa È storia Questa Stai zitto Amici Questa è storia Sì Guardate Cosa è successo Mentre facevo le partite Arena 9 Ho bevuto un po' 3000 coppe Sì io registro sempre il sabato sera Infatti tra un po' ci saranno le doppie epiche Perché sono le 23.39 Allora Eeeh Sono arrivato a 3000 coppe In Arena 9 Mi è uscito il gigantomane Di Arena 8 Però Quest'altro pure in Arena 8 Mi ha fatto fare tutte le partite in Arena 8 Allora noi andremo a spacchettare E inoltre compreremo questo Perché giustamente Voi mi direte Se tu non carichi la carta A noi che ti seguiamo a fare E io Ho sbagliato E io acquisterò Amici Silenzio Vi farò vedere Il baule leggendario Le gemme E il vagone d'oro Che con 100.000 Amici compro due leggendarie domani Perché caricheranno le doppie epiche E io vorrei Quel pisciatore di Il minatore E Il La principessa Allora Chi vuole aprire di voi Abbiamo tanti ospiti C'è Rion Vai Rion Eccoci qua Oh tre carte Vai 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 Porco diavolo Senti Senti L'effetto Sono No Oh 1300 Ia il demone Chi vuole aprire Allora aspetta Tu o David Sì Dave Master Vai Dave Master Allora premi Uno tu Due carte Uno Omega sgherro E ora aspetta Matti Pogboom Matti Pogboom Fammi usci tante belle Non le spiriti del fuoco Nuove spiriti del fuoco Amici Andiamo a spacchettare Il barriere più importante D'Europa D'Europa Non dico altro Seguitemi E lasciatemi tanti likes Perché quello che stiamo per fare È una cosa micidiale Allora io ora premerò Però metterò In pausa la registrazione Perché giustamente Non sono un pirla Ora io metterò i miei dati Voi che pretendete di vedere Allora Mettiamo pausa Che cosa speri nel boscaiolo? Ragazzi Ragazzi Eccolo Eccolo Ah la principessa Sì Ah è vero È vero La principessa Amici Amici sportivi Voglio Mille like Oh Carica l'oro Esaurito Lo so Come me Amici C'è un 1 rosso Qua sotto Speriamo che sta registrato Se no sto a follow Scemo Ah eccolo qua Eccolo Amici sportivi La princess Princess Vediamo al posto di chi lo posso mettere Perché questa è un'ardua sentenza Allora Allora Io per adesso farei così Però potessi pentirmene in futuro E adesso con queste 100.000 gemme Io non volevo il tronco E non volevo il Mastino Mastino E non mi hanno usciti amici Io questa Non so che cosa dovevo dire Amici sportivi Con queste 100.000 gemme Con queste 100.000 gemme Sì Praticamente è come se avrei finito il gioco Oh Sei online Come era miss No Mr. Waffle chiede la partita Stai zitto Amici sportivi Io adesso voglio il minatore E con queste 100.000 gemme Me ne comprerò due Lo farò a livello 2 Tanti like Tante condivisioni Tanti E ci vediamo Per questo super barile Super Ultra Leggendario Che è qui Silenzio un attimo Allora Oh Pure la gemme Fammi vedere C'è 4600 Ti puoi stare qua Ti puoi stare Signore e signori Queste 1.500 Mi ci comprerò 1.500 Che Se mi dà il Il leggendario Mi ci comprerò 3 barili Super Leggendari 3 barili Mira Leggendari Amici sportivi Passiamo all'altro profilo Perché la puntata Sembra un direttore La puntata Non finisce qua Signori Signori Tra Allora Fammi vedere Tra 20 Tra 17 minuti Caricheranno il negozio Di doppie Epic Di doppie Leggendari Che io voglio Il Miratore Allora Per questa grande occasione No Non farò niente Vi ho fatto vedere La principessa in diretta Signore No Non ho fatto lo scream Va bene Lo farò adesso Lo farò adesso Ecco lo scream Signore e signori La puntata Non finirebbe qui Perché tra poco Vi farò Avvistare Il negozio Il negozio E domani Nell'episodio No Sì Nell'episodio No Nell'episodio Di oggi Vi farò Aprire il gigantomane Solo Solo per voi Amici ascoltatori Intanto per ora Stoppiamo il video Ma però Non ha finito Quale episodio Tanti likes Per questo spacchettamento Che mi ha costato 10 cucuzze Amici Passiamo all'altro profilo Però Prima di Riun Passiamo al tuo Va bene Amici ascoltatori Passiamo a Riun Però se devi fare così Passi a Fastweb No No Amici Signori Signori È mezzanotte È mezzanotte E come promesso Vi faccio vedere Cosa ho nel negozio Speriamo il minatore Sei il minatore Sprizzoggioia Da tutti i fori Da tutti i fori Ti prego Ti prego Allora Dai 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 Legge Non lo so Mi sa che Mi sa che Non ci sta No Non ci credo Non ci posso Credere Qua hanno messo L'altra offerta Ma Passo stavolta Anche perché C'è Bavole magico Dell'arena 8 Che vergogna Che vergogna Non ci posso Credere Signori Proviamo a sbloccare No 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 Proviamo a sbloccare Niente Io qua devo avere Il minatore Assolutamente Devo avere il minatore Facciamo Facciamo che il video Finisca qui Tanti like Tanti pollicioni In su Iscrivetevi Commentate Condividete E noi ci vediamo Domani E noi ci vediamo Sbloccare E noi ci vediamo E noi ci vediamo